Hello bad guys, benvenuti in questo nuovo video. Ormai ogni introduzione di ogni video inizia con delle scuse ma purtroppo è vero, diciamo che sono stato un bel po' impegnato sia per motivi personali che per lavoro. Diciamo un po' avevo bisogno di un po' di stacco ma al contempo sono stato molto impegnato col lavoro tant'è che appunto dovrò partire all'estero la settimana prossima, sarà la mia prima esperienza lavorativa fuori dall'Italia. Sono un po' emozionato e ansioso allo stesso tempo quindi di conseguenza sarò assente per un altro po', circa due settimane o poco più. Però diciamo nonostante l'assenza sono sempre rimango attivo diciamo sul canale quindi se mi scrivete commenti o quant'altro rispondo tranquillamente tant'è che mi hanno chiesto di poter parlare con loro, gli saliva qualche consiglio e vi ringrazio appunto perché per me è anche un tipo di supporto, ops ho mosso il telefono e come vedete anche attrezzatura nuova quindi speriamo in bene. Comunque sia per risolvere diciamo il problema, non voglio manco chiamarlo problema però per venirvi in conto e quindi poter parlare con voi diciamo che sto lavorando un po' al reparto social del canale. Quindi faccio un'altra piccola premessa se non vi interessa tutta questa parte qui questa breve introduzione che è un po' off topic dal video in questione, schippate direttamente appunto nella sezione dove andrò a spiegarvi la decklist. Per chi invece è un po' interessato diciamo al canale o a interagire direttamente con me rimanete qui perché appunto continuo a sfigare. Allora per quanto riguarda i social diciamo che l'unico social attivo al momento è facebook, rispondo tranquillamente lì però mi rendo conto che diciamo non è la piattaforma più utilizzata quindi sto lavorando sia il mio profilo instagram che ho già aperto però non ci sono contenuti e voglio vedere un po' che tipo di contenuti inserire probabilmente qualche short video all'interno del canale magari anche le decklist che porto su qui su youtube le metterò lì dopo un pochettino vediamo un po' e soprattutto ho aperto il mio canale discord che non renderò ancora pubblico perché ho bisogno un po' di inserire alcune cose di piruoli un po' vedere l'amministrazione appunto del server è vero che saremo pochi è per carità però diciamo preferire avere le cose organizzate ed è anche un po' del parte del mio carattere essere diciamo avere tutto sotto controllo ecco. Ah per quanto riguarda i prossimi video io avrei voluto portarvi la decklist del Gladiator Beast ma non mi sono arrivate alcune carte dato che diciamo è tutto di rarità e un po' per mia mania vorrei che fosse tutto appunto uguale quindi vorrei portarvelo al meglio ma ripeto non date peso alle rarità delle carte fatelo solo se vi piacciono ma obiettivamente potete giocare anche con le common bene per quanto riguarda i prossimi video vorrei fare il scegliere a voi perché allora potrei parlarvi un po' di card trader per chi non lo conoscesse diciamo che è un'altra piattaforma per comprare carte e quant'altro portarvi l'introduzione come ho fatto per il video del formato Edison che i ragazzi stanno andando alla grade non me l'aspettavo e vorrei fare lo stesso un po' con il Tourtengou Plant Format o semplicemente volete le decklist che mi avete chiesto non vi preoccupate c'è la Yubel tutte quante quelle che mi avete chiesto ci sono arriveranno prima o poi ma arriveranno non vi preoccupate detto questo faccio la solita premessa introduzione se siete nuovi del canale e o siete nuovi del formato Edison e non sapete da dove cominciare io sono Destiny o qui comunemente detto e conosciuto come Stardust come preferite chiamarmi insomma e mi occupo principalmente appunto del formato Edison e in futuro del formato spero del formato Tourtengou Plant ho realizzato una guida introduttiva al formato Edison in cui vi spiego in maniera molto molto semplice come muorvi all'interno del formato che troverete qui in alto a destra e qui sotto in descrizione quindi se avete domande o richieste in particolare potete scrivermi qui sotto tranquillamente o sui social disponibili in questo caso ora solo Facebook tornando a noi oggi vi porto la decklist del Disaster Dragon aggiornata questa volta senza il Debris Dragon che l'ho testato per un po' però alla fine è una scelta simpatica potremmo definire molto for fun però secondo me rallenta un sacco il masso per quanto possa dare accesso a nuove possibilità diciamo che quest'ultime non sono proprio così impattanti sulla partita in particolare mi riferisco all'Iron Chin Dragon che per quanto sia un'ottima carta magari non ha impatto come Priona col Goyo ma anche il Trident Dragon che però è un po' più diciamo difficile da calare e io senza farvi perdere altro tempo vi mostrerò la decklist aggiornata e abbiamo appunto da attimo solo e ora mi devo abituare al telefono nuovo qui abbiamo vabbè i tre Red Ice Tag Race Metal Dragon e le tre Viverne sono diciamo la carta principale che compongono il Disaster Dragon e gran parte dei mazzi Drago lui praticamente è il motore del mazzo e lui non voglio dire essere il suo marino però ci permette appunto di riciclarlo sempre dal cimitero scusate se effetto un po' di tagli però mi devo abituare un po' al telefono nuovo poi gioco tre Masked Dragon che ci permettono appunto di andare a asserciare anche il nostro Totem Dragon che parolosamente è la carta più costosa di questo mazzo il che non lo rende... è economico il mazzo però diciamo queste sono le due cartine che ve lo fanno alzare un bel po' di prezzo per il resto è abbastanza diciamo accessibile e ha anche l'Exploded Dragon che è sempre utile per togliere mostri come che ne so il Blackwing Armor Master per esempio o quantomeno ciccioni ecco poi la carta diciamo... un attimo faccio un po' di spazio poi probabilmente la carta più forte che rende forte il mazzo sono i tre Koakimeru Drago che praticamente cosa fanno? vietano a qualsiasi giocatore di evocare specialmente mostri di luce o oscurità che diciamo praticamente compongono la maggior parte del meta quindi è forte contro Blackwing, è fortissimo anche contro zombie è veramente veramente forte poi gioco il Drago della Notte qualsiasi carta di gioco magia o trappola che lo bersagliano praticamente sono inutili poi gioco il Lad di Main, il Light and Darkness Dragon che per me è sempre una carta fortissima ma che dovete ovviamente secondo me desidare contro Vaio Turbo perché appunto io una cosa che non sapevo è che praticamente l'effetto di Vaio puoi attivarlo più volte, diciamo il costo non è rimuovere quindi praticamente rende un po' il Light and Darkness Dragon quasi inutile e poi piccola attach che ho inserito nel mazzo sono due Warrior Lady allora voi ora direte ma perché gioca le Warrior Lady se giochi il Totem Dragon quindi non potrai utilizzarlo diciamo che fortunatamente l'effetto di Warrior Lady va quasi sempre a rimuovere il mostro dell'avversario quindi diciamo che non andremo ad averla nel cimitero preferisco semplicemente due sono forti anche perché vanno un po' a risolvere quella problematica che vi accennavo nel video scorso della prima versione del Disaster Dragon che se volete potete andare a vedere ed è una versione un po' più classica di Full Drago appunto va a risolvere quella problematica del semi-cala che ne so, ciccioni più grossi oppure mostri come Spirit Reaper diciamo mi è bloccato il mazzo quindi loro due sono molto molto forti e ti salvano praticamente molte molte partite poi gioco per le magie due Sarcopagi due Book of Moon magari entriamo al centro dello schermo, grazie come diciamo coppie di carte magia loro sono diciamo sempre forti fanno da farino tolgono magari la possibilità di fare sincronizzazioni e queste invece praticamente ti vanno principalmente a serciare la carta principale del mazzo che è la fusione futura la fusione futura che praticamente ci permette di calare il nostro amicone a cinque teste praticamente il motore del mazzo si ma la redire ci permette appunto di mandare le piverni il top end dragon o diciamo i bersagli che ci servono a seconda della giocata che dobbiamo fare ed è praticamente fortissimo ovviamente soffre un sacco di tifone però forte ovviamente e a seguire gioco la Eevee Storm il Typhoon il Brain Control e Smashing Ground un'altra carta che gioco è l'ultima carta magia che gioco nel mazzo e diciamo il My Body's Shield come tifo personale e allora come avete notato non gioco più il Primaterial Dragon che still scusate l'inglese è una carta che io adoro personalmente la gioco nel Quick Throw Dragon però in questo mazzo potrebbe come vi accenavo anche in quello scorso un pochettino fabbricare è forte contro magari Riko però diciamo che non va a risolvere la problematica di Absolute Zero perché Absolute Zero magari appunto è un 2005 picchia il Primaterial Dragon che è un 2004 e diciamo non vai ad arginare propriamente il problema a meno che non sia tu ad attaccare e poi calare il Primaterial Dragon diciamo che questa sì è vero fai a pagare 1.500 come il Primaterial Dragon un po' più situazionale però secondo me è forte anche contro Blackwing se ti fa attacco Icaro e roba varia diciamo non ti vai a scartare la mano dato che il mazzo non è diciamo non ha un un Draw Engine così così forte anzi direi quasi che sia assente quindi questa qui è una carta di cui mi sono letteralmente innamorato e giocherò spesso sia di side che di main a seconda del mazzo fine il reparto trappola è abbastanza corposo gioco due Bottomless due Dimensional Prison il Solent Judgment Mirror Force Call of the Haunted vabbè fortissima il Torrential Mono Starlight Road la My Body As Shield l'ho voluto anche ero tentato di giocarne due di queste ma ho preferito giocare il My Body As Shield perché lo vede un po' più versatile diciamo che questo è il constraint del dover spaccare due carte mentre questo magari è anche una Bagerapia e la posso utilizzare dalla mano durante il mio turno diciamo una serie di vantaggi che ho preferito rispetto a quelli della Starlight Road poi gioco la Dust Shot e infine altra teccia mia Trap Stand Trap Stand perché alla fine il mazzo soffre un sacco dalle trap da prigione dimensionale magari anche il bottomless il punto torrenziale diciamo che vuole andare a Tk e tramite appunto assordisci trappole possiamo andare a chiudere subito la partita con i nostri dragoni niente a due potrebbe essere molto forte però secondo me per ora io la sto testando a uno e mi ci sto trovando abbastanza bene per quanto un po' potremmo definirla casuale però fidatevi quando arriva fa la differenza infine per quanto riguarda l'extra tec abbiamo praticamente principalmente bisogno solo di questi tre niente da dire nel senso che è vero che giochiamo il brain control però ragazzi vi garantisco che 99% delle volte usiamo manco con questo alla fine perché difficilmente abbiamo il sepia drago con altri macchini però abbiamo principalmente loro loro due e ovviamente per andare a per andare a affillare diciamo tutto l'extra tec che è consigliabile gioco due stardust e due chimera tec e infine poi gioco diciamo caso che con brain control riesca a prendere qualcosa un po' di carte random tranne un po' questa un po' diciamo più scelta potete giocare anche il blackwing arbor master e molto molto classico per quanto riguarda invece la side diciamo che io non è che sono contro a mostrarvela però come dico sempre è molto situazionale dipende dal vostro local da che mazzi giocano però diciamo ne ho tirata su una che diciamo utilizzo di solito io che secondo me è abbastanza forte dato che anche se magari non conosci ma appunto entri nell'ottica non conosco nessun mazzo che ci sia local o questa side abbastanza versatile gioco due electric virus non gioco i cyber dragon per il totem dragon diciamo principalmente quindi gioco questi qua che diciamo scelgo io quando appunto utilizzarli sono forti mirror match sono forti appunto contro macchina vai a prendere il controllo quindi è una sorta di brain control non voglio dire gratuito ma quasi potenzialmente potreste giocare anche system down che è veramente fortissimo paghi miglia per rimuovere tutti i nostri macchina sul terreno mi pare anche nel cimitero e un Yamada dragon che diciamo è sempre il ciccione che ci piace ed è un po' una sorta di draw engine del del drago che potreste anche volendo provare a giocare di main che è un po' unexpected poi giocano due nobiluomini che sono per me forti sono sempre stati forti sono forti in gotte e per me continuano ad essere forti anche in Edison dato che obiettivamente carte come Rico o la spia sono sempre di tro l'angolo quindi si incrochette un po' vi fai male a maggior ragione che gioca anche Rico vi fai un sacco male e in particolare girano un sacco di lightsworn ultimamente quindi forti poi gioco un'altra smashing ground che secondo me è la carta che ti fa vincere un po' contro proleti torbisti perché alla fine gli va a togliere il mosto che fa controllo e picchi come un forse nato sperando che non ti cali le mille mille trappole che gioca e quantomeno può essere una play al carro poi infine gioco due specchi in più della luce per il motivo che vi ho detto un po' anche per cui gioco i nobleman sia per il cliché lo spiema per l'iceworld che ultimamente gira come non so cosa lo trovi ovunque poi gioco due tirare il tappeto due da stornado perché ci fanno sempre ci fanno sempre comodo due direttare i signori di guerra che è una delle carte più forti secondo me da side che fortunatamente drago si può permettere potreste desidare magari le warrior lady contro queste per mettere queste e infine la royal oppression che io preferisco giocare di side ma potreste anche giocare di main togliendo che ne so il trapstan eccolo qui fate il cambio non lo so scegliete voi ovviamente questi sono diciamo i miei gusti e preferenze ecco io vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto scusate se magari le inquadrature non erano granché però sto un po' al contrario mi devo abituare un po' all'inquadratura del telefono nuovo sperando si veda tutto per bene e come al solito io vi chiedo sempre di supportarmi basta anche un commento per farmi sapere che ci siete non è che non me ne frega nulla del canale anzi è solo che sono un po' impegnato e molte volte mi perdo un po' con la testa altrove e spero di poter entrare in contatto con voi il più presto possibile con i social che vi ho menzionato prima Instagram e Discord e vi ringrazio ancora una volta e rivederci al prossimo video see you next time